Prima di parlare di città delle biciclette parliamo di cultura della gente e qua ce n'è molta poca ancora. Io sono dell'avviso che qualche volta dovremo toccare nella tasca le persone per farli abituare. Tu dici la difesa dell'ambiente, sei venito da Battipari e Reboli, c'è lo sport di buttare le buste dell'immunizia, è una cosa indegna, non lo so, però ahimè così siamo fatti, così ci dobbiamo tenere, pittiamoli nella tasca, scusate la tasca, 1975 erano l'assessore in questo comune e c'erano la gente che buttava il buste della spazzatura dai balconi a via del centenario, facevano qualche multa di 400 mila di condomini, le buste non le hanno buttate più. Grazie ancora, scusate. Grazie.